Salve a tutti, benvenuti alla bottega didattica, sono Gianfranco Marini e vi presento un'applicazione web che serve per realizzare presentazioni Si tratta di Slide.com, un'applicazione che si può usare anche direttamente sui tablet e che permette di costruire presentazioni di formato abbastanza tradizionale su gestioni di slide però da risultati molto efficaci, si apprende molto rapidamente ad utilizzarla e si realizzano molto velocemente le presentazioni Questa è la pagina iniziale di Slide.com Per registrarsi, la registrazione è free, gratuita per registrarsi clicchiamo qui su sign up, scegliamo il piano, sceglieremo quello free e compiliamo il solito form, quindi username, email e password Molto comodo per chi non volesse accumulare password registrarsi direttamente con il proprio account Facebook o Google Io mi sono logato con la mia mail, questa è la mia dashboard, la mia pagina principale qui in alto a destra sono nel mio profilo, insomma Ho il menu, qui posso andare nel mio profilo, qui posso uscire, log out e creare un nuovo deck, cioè una nuova presentazione Vediamo prima di tutto le presentazioni come sono organizzate Qui ho tutte le mie presentazioni, come vedete se mi posiziono sulla presentazione ho qui in quest'angolo vari pulsanti Questo mi serve per cancellare la presentazione, per duplicarla, per condividerla Se clicco qui ho il link che posso inviare, ho anche la possibilità di personalizzare il codice per incorporare in un sito web la mia presentazione posso modificare larghezza, altezza e anche l'aspetto scuro, chiaro oppure posso inviarla direttamente dal mio profilo a qualcuno via mail Che altro posso fare? Da qui posso editare la presentazione, quindi posso modificarla e qui avvio la presentazione Io adesso avvio questa presentazione per darvi un'idea di come funziona Ecco, questa è la pagina che ho per configurare la modalità di presentazione Posso per esempio impostare la presentazione full screen, scelta che consiglio per per esempio proiettarla sulla LIM Posso nascondere i controlli e posso avviare la presentazione Interessante è aprire la visualizzazione per lo speaker cioè per chi sta parlando e che può essere grazie a questa modalità di visualizzazione aiutato nel suo lavoro Come vedete infatti sulla parte sinistra ho la slide che viene attualmente visualizzata per esempio su uno schermo e che vedono, che il mio pubblico, i miei studenti stanno guardando ma non vedono quest'altra parte sulla destra Qui ho il tempo, in modo che mi possa regolare Adesso ho ripreso, l'ho annullato Qui ho invece l'ora corrente e qui è la diapositiva successiva In questo spazio sottostante ci sono gli appunti che ho predisposto qualora ne avessi avuto la necessità per la mia presentazione Vedete, per andare avanti clicco qui posso alzerare nuovamente e così via Bene Può essere molto utile in un convegno ma anche in una lezione Adesso chiudo e noi facciamo partire la nostra presentazione normalmente Come vedete è molto semplice titolo, immagine, testo il testo si può formattare immagini ci possono essere anche link c'è un effetto di transizione minimo io la uso quando ho molte immagini da mostrare da documentare per esempio eventi questi sono link se clicco si apre la pagina Wikipedia e così via chiudiamo e torniamo alle nostre presentazioni per creare una presentazione un nuovo deck clicco appunto su New Deck e compare l'editor ci sono due menu un primo menu che è questo mi consente di cliccando dall'alto in basso su questo pulsante verde ecco avere un'anteprima di quello che ho fatto questo è il pulsante di Redu di Undo cioè il Control Z per tornare indietro avessi fatto un errore questo mi avvisa se sto lavorando online quindi se il salvataggio è automatico non devo salvare io manualmente mi avvisa se le modifiche che ho apportato l'ultima modifica è stata salvata il menu su cui lavoreremo è questo questi sono dei pulsanti che sono strumenti di creazione dei vari elementi che io dovrò comporre nella mia slide il testo immagini ombre linee e così via noi vedremo i primi due interessante per i docenti di area scientifica è l'inserimento di simboli matematici vediamo come si può inserire un testo clicco sul pulsante testo e si apre il menu con tutti gli strumenti per formatare per configurare il mio testo vediamo i principali allora si è aperta questa finestra ecco qua ho inserito del testo a scopo dimostrativo vediamo cosa posso fare doppio clic per entrare mi compaiono i soliti strumenti di formatazione e quindi abbiamo l'intestazione 1, 2, 3 per esempio 3 vedete il testo ingrandisce torniamo al testo normale qui posso aumentare o diminuire percentualmente il mio testo per esempio 70 posso fare 120 e così via posso modificare il colore di una singola parola con la palette dei colori aggiungere altri elementi di togliere con quest'altro pulsante la formatazione se non sono soddisfatto modificare giustificato allineato a sinistra allineato a destra l'allineamento e soprattutto posso inserire dei link seleziono la parola clicco sul simbolo dei link e inserisco un link per esempio quello del mio blog incollandolo qui ecco fatto adesso la parola è diventata un link se utilizzo la modalità anteprima di visualizzazione posso anche provare il link cliccandoci sopra vedete si apre il mio blog va bene un po' di pubblicità chiudiamo e torniamo alla modalità di modifica e creazione bene vediamo adesso l'immagine una cosa io posso spostare come voglio semplicemente trascinando col puntatore del mouse gli elementi vedete che compaiono delle linee che mi permettono di allineare e posizionare esattamente l'elemento desiderato in questo caso il testo per esempio se questo lo voglio allineare al centro vedete compare a seconda di come muovo una linea si intravede appena al centro che mi permette di centrarlo orizzontalmente posso centrarlo verticalmente ecco qua adesso è centrato sia orizzontalmente che verticalmente va bene mettiamolo da parte e vediamo adesso il come si inserisce un'immagine clicchiamo fuori dal testo nel spazio vuoto del nostro slide clicchiamo su immagini allora qui c'è da dire una cosa la versione premium concede uno spazio se non ricordo quanto ma estremamente limitato per caricare dal nostro pc le immagini che ci interessano perciò dopo qualche presentazione avremo già esaurito lo spazio per le immagini e presentazioni senza immagini sono improponibili che fare allora? bene prima vediamo come funziona la modalità di inserimento delle immagini prendendole dal nostro computer è abbastanza semplice clicco su upload clicco su un elemento su un'immagine che ho nel mio pc la sta elaborando tra l'altro slide come in html5 quindi ci permette di fare un lavoro molto interessante cioè di ingrandire quanto vogliamo la nostra immagine senza perdere di definizione questo è veramente utile quindi anche un'immagine piccola ingrandita resta perfetto adesso cancello e vediamo come fare ad aggirare il problema delle immagini naturalmente il trucco qual è? è usare immagini che sono online se non le troviamo mettiamo online le nostre immagini ricorrendo a un servizio come picasa web o come flickr o come qualche altro in modo che possiamo anziché inserire le immagini inserire un link all'immagine è però con un trucco permette di visualizzare dentro la slide la nostra immagine ma è più semplice farlo clicco su immagine clicco su close comparirà uno spazio vuoto perché non ho inserito nessuna immagine a questo punto in che cosa consiste il trucco? se mi posiziono vedete sulla casella dell'immagine comparirà il simbolo del link clicco qui mi procuro un link per esempio questo e lo inserisco e clicco su save ecco avete visto ho inserito un'immagine non l'ho caricata nel mio spazio cloud di archiviazione su slide.com e perciò posso continuare tranquillamente a usarlo in modalità free ma sfruttando le immagini che voglio tutte le immagini che voglio ebbene vediamo adesso che cosa abbiamo possiamo aggiungere un bordo possiamo aggiungere un link ecco vedete il bordo naturalmente possiamo anche scegliere che tipo di bordo la grandezza del nostro bordo per esempio 5 pixel tratteggiato possiamo cambiare il colore del bordo facciamo qualcosa di orribile adesso possiamo inserire un link se lo vogliamo queste sono le azioni principali posso anche cancellare e duplicare non so cosa sia massimizzare ecco significa non l'avevo mai visto aumentare al massimo la dimensione della nostra immagine compatibilmente con i bordi della slice infatti vado fuori immediatamente il bordo tratteggiato che indica la mia area di lavoro diventa rosso mi fa capire che c'è qualcosa che non va anche questa è una funzione molto utile bene clicchiamo fuori adesso cancello ci sono altri elementi le ombre le linee tabelle che si possono inserire frame codice interessante può essere i simboli matematici posso inserire infatti dei simboli matematici in questo modo ma è una funzione che adesso non vedremo ho rinserito questo spazio clicca con un doppio clic si ingrandisce qui posso incollare i simboli matematici le equazioni o quant'altro dopo averle copiate da dove le ho prese da un mio documento per esempio come potete vedere qui sulla destra vi è un altro menu vediamo un po' a cosa serve qui posso cliccare per selezionare uno sfondo un colore di sfondo per la mia slide qui ho altre opzioni posso vedete scegliere il colore e così via adesso vi dirò use default qui posso anche inserire un'immagine come sfondo per la mia slide questo permette di aggiungere le note dello speaker attento oppure ricorda o quell'altro che volete aggiungere voi per passare a una slide successiva clicco su più qui mi propone vari formati per esempio bianco ecco questa è la mia slide quando ho molte slide chiaramente è difficile gestirle vediamo come si può fare devo tornare sul mio profilo quindi clicco su questo pulsante in basso a destra il menu principale torno sul mio profilo abbandonando la presentazione che è stata come vedete salvata automaticamente ed entro in un'altra presentazione modalità edit per modificarla eccola qui come faccio a per esempio organizzare le slide a spostarle a mutarne l'ordine di successione bene posso cliccare su questo pulsante su questa pila che mi mostra le varie slide con i tasti freccia mi posso muovere o con questi tasti posti in basso a destra e per modificare la posizione delle slide queste sono più di 60 quindi insomma è stato abbastanza complicato è un sistema abbastanza complicato vedete posso o usare queste frecce se clicco qui a destra sulla freccia a destra si sposterà vedete a destra adesso la rimetto a posto bene vediamo adesso le modalità di condivisione le abbiamo già viste posso importare o esportare questo tasto può essere utile quindi lo vediamo se esportiamo vedete non possiamo esportare in zip pdf o sincronizzare con dropbox che sarebbe molto comodo perché dobbiamo avere la versione a pagamento possiamo scaricare una versione in html comunque l'abbiamo online la possiamo usare da dovunque vogliamo le ultime indicazioni che possiamo dare sono queste questo lucchetto indica come sempre la possibilità di rendere pubblica o privata la nostra presentazione vedete per avere la possibilità di renderla privata dobbiamo avere almeno l'account pro questa rotellina come al solito indica le impostazioni clicchiamo vediamo abbiamo qui il titolo che possiamo modificare il link qui possiamo dare la descrizione della nostra presentazione e possiamo anche configurare altri parametri io ho attivato i commenti il forking è attivato di default non ho idea di che cosa voglia dire auto slide quando procede in automatico possiamo anche settare il tempo 6 secondi 5 secondi non lo uso mai bene cancelliamo ultima cosa lo stile cliccando su style possiamo scegliere varie combinazioni di colori abbiamo anche un'anteprima possiamo scegliere modificare i caratteri il font la sua formatazione possiamo modificare gli effetti di transizione tra una slide e l'altra e con la transizione di background che qui mi spiega essere una transizione che viene applicata quando passiamo da uno sfondo realizzato con un'immagine a un'altra sezione della nostra presentazione in cui gli sfondi sono realizzati con un'altra immagine io adesso cancello mi sembra che vi abbiamo detto tutte le cose più importanti torniamo nel profilo per uscire vi ricordo logout grazie per la vostra pazienza se avete sentito voci di bambino non è un effetto sonoro che ho aggiunto per rendere più interessante il tutorial è mio figlio che è incontrollabile comunque vi saluto e alla prossima arrivederci